E' subito per l'Olimpia con Cinciarini che attacca, scarica per Amizov, subito la trippa presa e segnata. Subito grande ritmo in questo avvio, anche qualche errore di troppo, però è anche lecito attenderselo mentre Cinciarini con l'Eurostep batte Ruzier. Cerca dei primi punti della propria partita, ora scarico di Ruzier che non vede il taglio di Anderson, se lo aspettava ancora sul perimetro, un'altra palla persa di Varese dall'angolo, Panter per allungare il vantaggio. Roll per Schiltz, partenza stessa mano, stesso piede, subito un palleggio, arresto e tiro vincente. Moraschini vuole attaccare il centro dell'area, tiro cadendo indietro, segnato. Brindisi, poi Schiltz che scambia con Tarceschi, non sa bene cosa fare il prodotto di Arizona. Poi Cinciarini che riesce a trovare la strada per penetrare e Tarceschi corregge l'errore del compagno. Ruzier, penetrazione stoppato però da Tarceschi, è sempre complicato pensare di andare a tirare davanti alle braccia di Tarceschi che dall'altra parte riceve lo scarico di Cinciarini, usa la finta rispetto al primo quarto. Sta facendo un po' Schiltz, se lo dimentica la difesa, allora spara Shevon Schiltz. Direi che si fa restituire il pallone, vorrebbe attaccare contro Scola. Spagnato dal letto nel qualche secondo prima, ora Panter dal parcheggio praticamente. Trova Panter, prova a battere Douglas, scarico per Cinciarini, extra pass, mezzo in ritmo da Tome. Ultimi 80 secondi di questo secondo periodo, Panter da molto lontano, ne segna un'altra, 7 su 9. In questa partita ora Lidei prova a correre in contropiede, il canestro valido. I suoi giocatori, 5 secondi e noccioline da andare in questo secondo periodo. Lidei per Mitov che prende la tripla a rimorchio, va a bersaglio anche questa. Prova ad attaccare dal palleggio lo stesso Douglas, Panter subisce il fallo di Douglas. Davvero a fare quasi tutto quello che vuole in questa partita. Dentro per Biliga che prova a fare sportellate con De Vico. De Moretti è entrato all'inizio di questo quarto quarto, riceve ora con la maglia non era 3 in punta, il tiro in corsa. Roll con un'altra tripla, anche questa finisce nella retina. Prova a prendere posizione Tarceschi contro Tony Douglas che sicuramente ha un fisico meno, imponente del lungo americano. Resto davvero poco per tutto il resto di Varese che dal resto della truppa la partita continua ad allungarsi perché arrivano... Grazie. Grazie.